Ciao, domenica 30 settembre ci saranno in molte città d'Italia manifestazioni e presidi per chiedere un cambiamento molto importante all'interno del nostro codice civile, una cosa che è già successa in molti paesi d'Europa. Infatti nel nostro codice civile gli animali vengono ancora definiti come cose mobili. Noi chiediamo, vogliamo che siano definiti e considerati per quello che sono, e cioè degli esseri senzienti. E chiediamo anche di riconoscere soggettività giuridica agli animali di affezione. Dobbiamo essere in tanti, nelle piazze e nelle strade, perché un cambiamento di questo tipo aumenterà di molto la tutela nei loro confronti. E allora informatevi su qual è la piazza, la strada della vostra città dove ci sarà la manifestazione o il presidio e portate la vostra presenza, il vostro aiuto, il vostro tempo per gli animali che ne hanno bisogno. Grazie.